Con la cerimonia di premiazione avvenuta domenica 9 ottobre 2016, presso l'Agriturismo Valle de Margia Granmichele si concludono i tre giorni che hanno visto lo svolgimento del 25esimo Festival Nazionale di Scacchi, Città di Granmichele, IV Memorial Nino Sileci, organizzato come un anno dal Circolo Scacchistico Alvise Zichichi, da quattro anni intitolato proprio Antonino Sileci. Grande soddisfazione da parte dell'attuale presidente del Circolo Vincenzo Damigello per il numero di partecipanti e per l'importante traguardo raggiunto con una delle manifestazioni sportive più longeve della città esagonale, che quest'anno hanno visto un incremento dei partecipanti provenienti da diverse località italiane e con la presenza particolare anche di giocatori stranieri, nella persona del Gran Maestro Naunkmin Igor, proveniente dalla Federazione Russa, il quale, confermando i pronostici, ha vinto lo stesso festival nella categoria Open Principale. A prendere parte alla cerimonia di premiazione è stata anche la neoamministrazione comunale di Granmichele, nelle persone del presidente del Consiglio Comunale Palermo, gli assessori Morello, Branciforti e Lamagna, i quali hanno rivolto a tutti i partecipanti il saluto della città. Abbiamo raccolto l'impressione dei vincitori e del presidente del Circolo Scacchistico di Granmichele, Vincenzo Damigello. Grazie per il torneo, mi è piaciuto molto, ma era molto difficile, comunque alla fine ho vinto, sì, mi ricordo Nino Sileci, 16 anni fa sono stato già. È la prima volta che partecipo a questo festival, la location è ottima, l'organizzazione è eccellente, anche il torneo è andato piuttosto bene, sono legato secondo, assoluto, e mi auguro di ripartecipare il prossimo anno. Sì, mi ha fatto molto piacere partecipare a questo torneo, che è un torneo storico, con tantissime edizioni, io comunque sono a più di 10 partecipazioni, comunque sono contento di aver ottenuto il terzo posto, faccio migliaia di auguri alla situazione che questo torneo possa esserci anche negli anni a venire. E' con orgoglio che annuncio la venticinquesima edizione del torneo Città di Granmichele e gli Scacchi. Questo testimonia come la grande lungimiranza e la grande resistenza nel tempo di questa grande e bella associazione degli Scacchi. In memoria ovviamente il nostro direttore espirituale Nino Silesci, oltre alla venticinquesima edizione, è anche il quarto memorial appunto in sua memoria. Registro una fascinosa presenza di personaggi importanti, tra cui il grande maestro Igor Naunkin, il maestro Fide Giuseppe Littieri e il maestro Fide Alessandro Santagati. Le ho detti in questi tre posti perché sono i primi tre che hanno caratterizzato il risultato finale del torneo principale. Presenza prestigiosa e che testimoniano la grande eccellenza di questo torneo. Come dicevo prima appunto siamo alla venticinquesima edizione, la associazione esiste da oltre 30 anni. Questo significa correttezza, disponibilità di tutti gli scacchisti e grande esempio di lungimiranza per il futuro. Ci prepariamo ovviamente alla prossima edizione, nel frattempo organizzeremo e riorganizzeremo le lezioni con i bambini e nel periodo di dicembre, assieme ad altre manifestazioni che il comune sta organizzando, organizzeremo anche una simultanea con un grande maestro al comune di Granmiglia della Sala Consiliare. Cercheremo di coinvolgere il più possibile le scuole con il bellissimo rapporto che abbiamo con il dirigente scolastico e oltre questo organizzeremo nella prossima primavera varie manifestazioni torneo lampo, similampo con l'idea di coinvolgere il più possibile i ragazzi, i bambini e ci avvaleremo anche di lezioni, di maestri per fare le lezioni con personaggi molto qualificati. L'obiettivo è quello di scoprire qualora possibile la presenza di qualche ragazzo talentuoso da poterlo valorizzare e portare a dei livelli speriamo straordinari.